Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per l'inaugurazione del castello di Savuto, il secondo castello che ha Cleto, in compagnia di Franco Roppovalente che è cletese, quindi è persona indicata a parlare di questo luogo e tra l'altro è tra gli organizzatori del famosissimo Cleto Festival. Quanto è importante questo evento per la valorizzazione del territorio? Quando si parla di valorizzazione del territorio si parla in qualche modo di sviluppo e di un approccio differente, perché come si può vedere in maniera lampante e tangibile questi sono dei ruderi ed erano fino a qualche anno fa coperti da spine ed erano abbandonati. Adesso li hanno rimessi in sesto e l'obiettivo sarebbe quello di poi riuscire ad attrarre delle energie esterne, perché noi da soli non riusciamo a gestire in toto tutto, però possiamo essere il grimaldello che può mettere in moto un'economia basata sulla cultura, come è avvenuto da sette anni a questa parte con il Cleto Festival che si tiene nell'altro borgo che è il borgo di Cleto. Quindi ripeto, giornate come queste sono delle splendide cose che hanno come finalità un approccio culturale differente, perché si capisce che c'è un'inversione di tendenza, mentre prima c'era la rincorsa al cemento, all'alluminio e all'edilizia selvaggia che ha depredato i centri storici. In qualche modo questo è rimasto in piedi, non è stato del tutto deturpato con forzature o come è successo anche in altri posti distrutto per far spazio a palazzine che poi alla fine si è capito che non hanno portato nulla. Invece tramite un approccio differente questi posti possono ancora dare tanto e l'obiettivo nostro come cittadini di Cleto in primis e come associazione culturale della piazza sarà quello di riuscire nel nostro piccolo a far emergere questo castello perché se lo merita. Perfetto, liberi.tv Riccardo Cristiano, Cleto.